Con ordinanza numero 31 del 21 febbraio scorso, il sindaco di Favara ordina il divieto di conferimento dei rifiuti solidi urbani in città. Il motivo è da ricercarsi, scrivono nell'arbitraria interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti da parte degli operatori ecologici. E questo accade solo a Favara, la protesta non è infatti allargata a tutti i comuni. Ricordiamo che i lavoratori, in protesta già da venerdì scorso, vantano la mensilità di gennaio e a breve maturerà anche lo stipendio del mese di febbraio. Dal comune fanno sapere di aver diffidato l'iseda, capogruppo del raggruppamento delle imprese che gestiscono la raccolta, a ripristinare con immediatezza il servizio. Nell'ordinanza del sindaco non si scrive una data di fine di vieto, durerà quindi fino a quando non verrà ripristinato il servizio di raccolta. In soli quattro giorni di protesta, ecco come si presenta la città. Via Berlinguer è ritornata ad essere una maxi di scarica a cielo aperto. Per le strade si vedono sacchi impiccati e spazzatura a terra. Un'immagine indecorosa della città e per lo più con grave danno alla salute degli abitanti. È inammissibile che nel 2015 possano ancora verificarsi episodi del genere. Un po' perché la discarica è chiusa, un po' per il poco senso civico dei cittadini, un po' per mancanza di adeguati controlli e adesso perché gli operatori non vengono pagati. Non si capisce perché si pretenda dai cittadini il pagamento delle tasse quando non si è neanche in grado di garantire il più elementare servizio. E in tanti si chiedono, ma i soldi che paghiamo dove vanno a finire? Considerazioni che puntualmente ci e vi proponiamo. L'assessore comunale agro, oltre all'Expo, si occupi anche della questione rifiuti che rischia di degenerare ogni giorno di più. Favaresi, che fare? Tenetevi la spazzatura in casa fino a quando il primo cittadino non vi ordinerà di poterla buttare.